Come è stato partecipare a questa esperienza? Allora, è stata sicuramente un'esperienza molto formativa per noi, in quanto questo coro è nato qualche mese fa. Proprio con Lisa abbiamo fatto la prima intervista riguardo questo concorso, io le dicevo che stavamo per partire, quindi in realtà è stata una energia che ci ha caricato e ci ha formato notevolmente, quindi siamo qui, una gran bella soddisfazione. Voi cantate senza l'ausilio di strumenti musicali, difficoltà e punti di forza? Allora, sicuramente in difficoltà siamo sovraesposti, quindi ovviamente non c'è uno strumento come può essere un organo che ovviamente tende un po' a coprire qualche defaianza di intonazione e in realtà quindi siamo esposti a questo tipo di problematica. Al tempo stesso però ovviamente siamo motivati a cercare un tipo di concentrazione, di colore, quanto è possibile uniforme. Quindi anche questo è stato, insomma, ci dobbiamo lavorare, ci stiamo lavorando, è più che una partenza, più che un obiettivo, insomma. Ma però ci siamo in cammino per arrivare a un giusto suono, a una giusta uniformità.